Ciao a tutti, sono Nike e bentornati sul canale. Oggi siamo tornati con il quinto appuntamento sulle 10 cose che forse non sapete sul trono di sfade. Ma vediamo insieme quali sono. Numero 41. Caldrogo e i barbari. Per Gesù Momoa, che è l'attore che interpreta appunto Caldrogo, quello di Caldrogo non è l'unico ruolo da barbaro, diciamo, perché infatti interpreta anche il protagonista del film Conan the Barbarian. Curiosità numero 42. Daenerys e le parrucche. Infatti Emilia Clarke, l'autrice che interpreta Daenerys, in realtà non è bionda ma è castana e non le tigono i capelli ma le mettono a una parrucca. Numero 43. Pilot iniziale. Nel pilot iniziale, quello che era stato poi girato nuovamente quasi per intero, le attrici che interpretavano Daenerys e Catelyn erano diverse. Per Catelyn era stata scelta l'attrice inglese Jennifer Hell, invece per Daenerys era stata scelta l'attrice inglese Tamsin Merchant, che in questa attrice era recitata anche in altri film i Tudors. Poi, curiosità numero 44. You know nothing John Snow. Infatti Kit Harington, l'autrice che interpreta John Snow, fino all'età di undici anni non sapeva che in quel kit in realtà sapeva Christopher. Poi, curiosità numero 45. Yara e i libri. L'attrice che... Cioè, il personaggio di Yara, in realtà nei libri non si chiama Yara ma si chiama Asha. Per chi non si ricordasse, Yara o Asha è la sorella di Theon, o Theon, come la volete chiamare. Poi, numero 46. Robert e il suo passato. L'attore che interpreta Ray Robert qualcuno di voi probabilmente l'avrà visto nel telefilm The Full Monty, in cui interpreta uno dei personaggi. Poi, numero 47. Aria e la recitazione. Come si chiama? Maisie Williams, l'attrice che interpreta Aria, non aveva mai recitato prima di approdare a Grande Inverno. Numero 48. Ygritte, la brutta dei castelli. A differenza del suo personaggio, Rose Leslie, non è vissuto lo stato bradio o selvatico, ma è in realtà nato in un castello, perché ha una discendenza... adesso non mi ricordo di Gerangue, ma comunque... diciamo non reale, ma quasi, insomma. Numero 49. Tyrion e la carne. Tyrion, o perlomeno Peter D'Englage, che è l'attore che lo interpreta, in realtà è vegetaliano, e quindi tutta la carne che vediamo che lui mangia, in realtà non è carne, ma è... sono dei cibi assemblati in modo da sembrare carne. Numero 50. Tyrion e l'età. L'attore che interpreta Tyrion Reed, sì, ha circa 10 anni più del suo personaggio. Infatti l'attore ha 23 anni, invece il personaggio è sui 23. Oggi c'è anche una curiosità bonus, che mi è stata consigliata su Wattpad. Infatti, per chi non lo sapesse, sto scrivendo queste curiosità anche su Wattpad. Vi lascio naturalmente il link del mio profilo Wattpad, dove potete trovare la storia, anche su... insomma, qua nell'infobox. E questa curiosità mi è stata appunto suggerita su Wattpad, da... penso che sia una ragazza, perché il nickname è femminile, e si chiama Charlotte Prince 093, scritto tutto attaccato. Charlotte o Charlotte, non so... bene la pronuncia. Che mi ha scritto che in Batman Begins, no, in Batman, il Cavaliere Oscuro, e il ritorno, c'è anche l'attore che ha interpretato... Bailish. Bene, questo è tutto. Fatemi sapere se queste curiosità le sapevate già oppure no. Se ne avete altre da consigliarmi, scrivetemele pure qua sotto. Scrivetemele qua sotto nei commenti, e io vi mando un bacione. Vi ringrazio per aver visto il video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie. 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 Grazie.